I nostri progetti si basano sulla solidarietà. Abbonati al canale per vedere tutti i video extra dei relatori e con un piccolo contributo ci aiuterai a continuare il nostro lavoro e la diffusione di questi video. Buongiorno, eccoci al nuovo appuntamento della libreria esoterica di Perugia, la Cavour, che sta facendo questa missione di divulgazione importante, anzi oserei dire fondamentale, ognuno sta dando un contributo decisivo. Io nel mio piccolo, perché ho approfondito vari ambiti, quello orientalistico come sapete e anche quello esoterico rinascimentale. Abbiamo parlato di Giordano Bruno, abbiamo parlato di Leonardo, oggi volevo dedicare questa puntata ad un altro gigante del Rinascimento, questo gigante Giovanni Pico della Mirandola, di solito ho chiamato Pico, Pico della Mirandola, però lui si chiamava Giovanni, Giovanni Pico della Mirandola, era un nobile, faceva parte dell'aristocrazia italiana del Rinascimento e questa nobiltà non era solo una nobiltà di sangue, ma soprattutto era nobile a livello animico, era una grande anima e ci ha lasciato delle opere straordinarie che ancora oggi vanno comprese e come tutti i filosofi del Rinascimento richiede un'iniziazione. Questi grandi protagonisti del Rinascimento non erano solo grandi pittori, grandi scultori, grandi artisti, ma erano dei grandi iniziati e Giovanni Pico della Mirandola era uno di questi grandi iniziati e oggi voglio dimostrare proprio questa sua grande conoscenza spirituale che è quella che ci serve in questo periodo oscuro che stiamo vivendo. Non dimentichiamo che anche Giovanni Pico della Mirandola ebbe un periodo molto oscuro, alcuni dicono che poi alla fine fu avvelenato, ci sono varie teorie su questo perché morì molto giovane, è famoso per la sua memoria portentosa, leggeva un libro e già dopo averlo letto la prima volta l'aveva memorizzato, aveva quelle che oggi chiameremmo nello yoga delle siddi, dei poteri sovrumani, ma soprattutto aveva questa capacità di collegare tutte le varie tradizioni misteriche, esoteriche e come vi leggerò in alcuni suoi frammenti, cabalistici soprattutto, perché lui fu uno dei primi grandi studiosi della cabala e portò la cabala nella filosofia italiana ed europea e di questo che oggi voglio parlare. Io ho anche dedicato alla figura di Pico un romanzo breve, lo cito perché è un testo che amo molto, perché la narrativa oggi è molto degradata come le varie arti, invece ho cercato anche nella narrativa di portare, di riportare quello che la letteratura dovrebbe fare, cioè avvicinare le persone alla vera sapienza, alla vera conoscenza. Romanzo breve, chi è interessato il titolo è questo, Hulk si innamora, c'è anche il personaggio di Hulk perché nei fumetti molti autori hanno riversato molte conoscenze segrete, esoteriche, per esempio la figura di Hulk è ovviamente l'archetipo del gigante, ma comunque sia tutti i grandi fumettisti americani hanno preso dai miti per ricreare questi eroi. E quindi ho unito queste figure, Hulk, Pico della Mirandola, in questo romanzo, Hulk si innamora, che ho scritto qualche anno fa. Volevo leggere degli aforismi, così mi sono ispirato alla filosofia di Pico della Mirandola per attribuirgli questi aforismi cabalistici, che volevo leggervene alcuni e poi dopo passiamo proprio a sentire la filosofia iniziatica di Giovanni Pico della Mirandola. Ve ne leggo alcuni. Ogni evento della nostra vita è un simbolo per la vita di qualcun altro. L'albero è l'archetipo assoluto, il mondo materiale è il riflesso capovolto del mondo spirituale, le foglie dell'uno sono le radici dell'altro. Ogni animale sacro, chi ne uccide uno uccide una parte del volto divino. Questo l'ho scritto anche perché, come tutti gli iniziati del Rinascimento, ci tengo a ricordarlo, anche Pico della Mirandola era vegetariano, tutti i grandi, non era solo Leonardo, anche Giordano Bruno, c'erano tutti Erasmo da Rotterdam, erano tutti non mangiatori di violenza praticamente. E anche Pico della Mirandola. Il mondo dell'oscurità ha un solo scopo, permettere di sperimentare la scoperta della luce. Pregare è come correre, ma contemplare la bellezza è come volare. Basta un minuscolo atto di bontà per cancellare anni di errori. Chi salva un insetto può evitare un inferno. A ogni nostra azione devono unirsi cielo e terra. L'umorismo è la chiave della sapienza. La natura è il libro di Dio. I refusi sono opera dell'uomo. Questi sono alcuni di questi aforismi che ho così attribuito in modo eretico, se vogliamo, a Pico della Mirandola. Però volevo adesso invece affrontare proprio la sua esposizione. Pico della Mirandola ha scritto anche dei suonetti, era anche un poeta, filosofo, scrittore e studioso, come dicevo, della cabala. E qui lui ha lasciato due raccolte, che sono per fortuna state pubblicate da Mimesis, che vi invito a studiare. Una è le conclusioni cabalistiche. E lui cercò di fare una sintesi. Cioè lui voleva, Giovanni Pico della Mirandola, far arrivare innanzitutto agli studiosi italiani e poi gli sarebbe piaciuto che arrivasse al popolo e per questo lui cercò addirittura di parlare col Papa di allora, di convincere il Papa che tutte le tradizioni avevano una radice mistica comune. Attenzione, questo non vuol dire annullare le religioni e fare una religione universale come qualcuno vorrebbe fare. Perché quello che si vuole fare oggi è annullare le specificità di tutte le tradizioni e fare una sorta di brodaglia che non sa più di nulla. Pico non voleva fare questo, non è stato un anticipatore dei criminali di oggi. No, no, lui voleva mostrare che c'era un dialogo, che la verità è una. Poi ovviamente ogni tradizione ha il suo modo, ha le sue modalità, ha la sua ricchezza che non annulla le altre. Quindi non è che dobbiamo far sparire l'esoterismo vedico o quello cabalistico ebraico o quello cristiano o quello alchemico. No, tutti devono restare e lui voleva semplicemente far vedere che era tutto collegato, non voleva annullarlo come vogliono fare oggi e fare una specie di New Age. Attenzione, perché collegare e mostrare i collegamenti mistici non vuol dire come quello che vogliono fare oggi certi papi che non sono dei ripapi, fare una sorta di religione New Age, volevamo se tutti bene, poi la vera sapienza invece sparisce. Ecco, questo ci tengo come premessa perché altrimenti si rischia di confondere Pico della Mirando e far credere che lui anticipasse il gioco che vogliono fare oggi. Quello che vogliono fare oggi è annullare tutte le tradizioni. Invece Pico voleva collegarle e mostrare che sono rami di uno stesso albero, però i rami restano, ognuno con i suoi frutti. Chiaro? Bene. Allora, vi leggo questo frammento. E qui Pico parla della Trinità. Ecco, la Trinità è presente in tutte le tradizioni. C'è quella cristiana e tutti la conoscono, padre, figlio e spirito santo. Però in realtà è sbagliata, cioè come ci è stata raccontata, perché è tutto al maschile. Io l'ho detto anche in altri video. Il padre, ok, è l'assoluto, che genera. Poi c'è il figlio, che sono le emanazioni, cioè noi, le anime, le shakti. E poi lo spirito santo, in realtà è la dea. Perché in ebraico, Pico è anche uno studioso di ebraico, Ruha è femminile. Poi dopo l'hanno tradotto in spirito santo, ma in realtà è la shakti, è femminile. Quindi la Trinità è padre, madre e figlio. Come nell'om, A-U-M. E questo Pico lo sapeva bene. E la Trinità la troviamo nei veda e la troviamo nei nomi ebraici. E qui vi leggo Pico. I tre grandi nomi di Dio, di quattro lettere, che si incontrano per mezzo di un miracoloso trasferimento di proprietà nei libri segreti dei cabalisti, vanno fatti corrispondere alle tre persone della Trinità. Lo può capire chi ha molto approfondito la cabala. Quindi cosa sta dicendo Pico? Innanzitutto ci sta dicendo che questi nomi di Dio, della Trinità, questi tre aspetti dell'assoluto, che troviamo anche nell'om, A-U-M, hanno un potere particolare. Perché questa cosa che io per esempio cito sempre nel Mahamantra, il famoso Hare Krishna, perché è così potente? Perché ci sono i nomi divini, Hare, Krishna e Rama. Ma anche gli altri nomi di Dio, Prabhupada lo diceva, anche i nomi ebraici, basta che sono dei nomi autentici. L'ebraico è un'altra lingua tradizionale potentissima. Tant'è che Pico della Mirandola anche nelle sue indagini, per esempio, lui ha approfondito molto gli inni orfici dell'orfismo greco e paragonò questi inni orfici, li avvicinò per esempio ai salmi del Vecchio Testamento. I famosi salmi in realtà sono anche lì dei mantra. Pico lo dice in altre sue opere. Dice se noi riuscissimo a salmodiare questi testi nella lingua antica, hanno un potere energetico, potresti evocare delle entità angeliche. È quello che si fa con i mantra. Ecco, per dire che anche nell'ebraismo antico, nei salmi che noi troviamo nella Bibbia, che qualcuno ha cercato di dire che non è un testo sacro, ma dovrebbero lasciare perdere, perché in realtà c'è un potere mistico potentissimo, perché sono dei veri e propri mantra. Però è chiaro che devi studiare. Ecco perché Pico dice, lo può capire chi ha molto approfondito la Kabbalah, cosa che chi studia la Bibbia oggi non fa. Alcuni dicono, io traduco dalla Bibbia esattamente come l'ebraico e viene fuori che la Bibbia in realtà parla di altro. No, perché se tu vuoi capire la Bibbia, devi studiare la Kabbalah. La Kabbalah cos'è? È la tradizione mistica, esoterica, degli iniziati, dei rabbini ebrei iniziati, che hanno saputo decodificare un testo che ha come i mantra un potere che è per gli iniziati. Questo è il punto fondamentale. Vorrei anche ricordare che nel Rinascimento lo Zohar, uno dei primi testi, forse il libro più importante della Kabbalah, di questa mistica ebraica, se uno vuole capire la Kabbalah deve studiarsi lo Zohar, il libro dello splendore. La prima edizione a stampa, perché anche lì era trasmesso oralmente per secoli, la prima edizione venne stampata a Mantova, proprio nel periodo del Rinascimento. E non è un caso che Pico iniziò a distribuire questa conoscenza, a farla veicolare, perché comunque Pico andò a studiare con dei kabbalisti ebrei, che lo iniziarono a questo. E Pico conosceva, per esempio, le Sefirot, il famoso albero delle dieci Sefirot. Vedete, molti che conoscono la Kabbalah sanno che ci sono queste dieci sfere. Adesso non andiamo oggi ad analizzare, perché l'hanno fatto anche altri, ogni sfera ha un nome ebraico specifico, è un attributo divino, è la manifestazione dell'assoluto attraverso dieci dimensioni. Le prime tre, poi altre tre, poi altre tre, e poi c'è l'ultima che rappresenta il regno, che rappresenta la nostra dimensione, il mondo materiale, dove le anime discendono, e per ritornare nell'assoluto dobbiamo fare un percorso che ci innalza di elevazione sempre più grande, fino a tornare all'assoluto. E qui c'è tutta la scienza spirituale, che non è differente dallo yoga, perché poi tutto questo percorso kabbalistico utilizza, anche i rabbini kabbalistici utilizzavano la meditazione, utilizzavano dei suoni, dei suoni e dei mantra. Non a caso anche nella Kabbalah si parla di reincarnazione, loro lo chiamavano Gilgul, che corrisponde al samsara vedico. Ecco, per esempio, Pico della Mirandola, uno dei suoi grandi accostamenti, che non vuole annullare la specificità di nulla, ma mostrare che ogni tradizione ha raggiunto la verità e l'ha anche rappresentata in modo simile, mentre nella Kabbalah c'è l'albero appunto delle sefirot, che sono dieci dimensioni, i pitagorici utilizzavano un altro modo per schematizzarlo, che è la Tetractis, vedete? Questa è una figura che per Pitagora e per i suoi discepoli era sacra. Loro dovevano giurare di fronte a questa immagine geometrica, che è costituita da una sorta di triangolo, che poi in realtà è una piramide, vista in sezione di dieci punti, una base di quattro, poi tre, due e uno. E sono sempre dieci. Corrispondono, Pico della Mirandola fu uno dei primi a far capire che la piramide appunto dei dieci punti pitagorica appunto, che Pitagora portò per primo nella filosofia greca, anche collegandola col discorso degli igniorfici, che Pico collegava con i salmi ebraici, corrispondeva anche all'albero sefirotico. E questo è importante, perché anche qui vediamo le dimensioni, forse qui è ancora più semplice, perché qui vediamo la punta della piramide che rappresenta l'uno, l'assoluto, che poi si manifesta nel due, la dualità, che poi si manifesta nel tre, i tre sono le tre dimensioni, tre guna, che io spiego nei miei libri e che si trova per esempio nella Bhagavad Gita, Krishna spiega che tutta la realtà è strutturata nell'universo secondo tre guna, tre dimensioni, il tamas, il rajas, il sattva, e poi abbiamo il quattro, che sono i quattro elementi. E quindi noi vediamo in questo schema, in questa piramide di dieci punti, tutta la realtà materiale. Ma esattamente i rabbini cabalistici facevano la stessa cosa con le dieci sefirot. Qui questo cosa vuol dire? Che una nulla l'altra, come vorrebbero fare oggi? No, se tu studi qui, poi studi lì, approfondisci, o viceversa, certe cose che qui non capisci, le capisci meglio lì. Cioè queste tradizioni si integrano fra loro. Non si devono annullare un qualcosa che poi non ha più nulla a che fare con le radici delle varie, diciamo così, sorgenti, che sono quella greca, quella egiziana, quella indiana, quella europea, quella ebraica. Assolutamente. Ognuna di queste è come, possiamo fare un paragone, è come un'orchestra dove è importante che ci siano il violino, il violoncello, la tromba, sono ognuno specifici, però suonando tutti insieme viene fuori una sinfonia che arricchisce tutto. È quello che Piccolo voleva fare. Prima dicevo che lui andò dal Papa e portò per esempio al Papa alcuni di questi aforismi, e voi potete immaginare che il Papa non fu entusiasto di questo, perché la Chiesa avrebbe perso potere, perché il Papa avrebbe dovuto dire ma come? Allora anche in altre tradizioni si può raggiungere la verità su come ritornare al Divino, su come fare esperienza del Divino. E il Papa subito gli disse tu sei un eretico. Non era questa l'intenzione di Piccolo, lui voleva creare una vera armonia, una vera fratellanza, non annullando le tradizioni, ma mostrando che tutte le tradizioni spirituali devono permanere e dialogare, integrarsi e arricchirsi a vicenda. Da lì lui dovette scappare da Roma perché il Papa lo voleva far fuori. Ma pensate anche il coraggio di questo grandissimo filosofo è iniziato. Ha un po' l'ingenuità se vogliamo. Mi ricorda qualcosa? Anche Giordano Bruno tentò di dialogare a Roma. Vediamo la fine che ha fatto. Piccolo della Mirandolo per fortuna è andato, qualcuno dicono che comunque degli emissari arrivarono a lui col veleno. Questo però è tutto da dimostrare, ci sono varie teorie, adesso non posso dire se è stato avvelenato o no. Però alcuni hanno questa teoria. A noi interessa continuare, continuare questo percorso. Vi voglio leggere ancora un altro testo che vi consiglio, sempre pubblicato da Mimesis, casa editrice con cui anche io ho collaborato perché è una delle poche che ha il coraggio di pubblicare questi testi sapienziali, ermetici, esoterici e iniziatici. Queste sono le conclusioni ermetiche, magiche e orfiche. Anche qui l'ermetismo, la magia e l'orfismo. Tre tradizioni che dicono la stessa cosa, ma ognuno la dice in un modo unico e insostituibile. Vi leggo i primi aforismi, poi li commentiamo e poi ci avviamo la conclusione. Quello che voglio fare è stimolarvi, farvi capire l'importanza che c'è ben oltre dietro a questi personaggi, che nella scuola vengono banalizzati. Giordano Bruno, Giovanni Pico da Milano, alla memoria, Leonardo, il grande pittore, no, questi erano dei grandi iniziati che noi oggi dobbiamo recuperare, dobbiamo prendere questa ricchezza spirituale, attualizzarla e collegarla, come io sto cercando di fare, con la grandissima tradizione dei testi sanscriti, vedici, perché così noi potremo fare un nuovo rinascimento, perché qui veramente verrà spazzato via tutto, resteranno solo delle macerie e bisognerà ricreare, almeno quelli che ci credono a una società diversa, su delle basi conoscitive, educative molto diverse. Vi leggo il primo aforisma di queste tesi, che Pico era molto bravo nel sintetizzare. E qui Pico scrive, Giovanni Pico della Mirandola, dovunque la vita, lì è l'anima, dovunque l'anima, lì è la mente. Pari pari alla Bhagavad Gita, perché se c'è la vita vuol dire che lì c'è un'energia che va ben oltre il corpo, la Jiva, Jiva Shakti, l'energia Jiva Shakti. Se non c'è questa energia, nessun corpo può essere vivo. Dove c'è poi questa energia, che lui chiama l'anima, in sanscrito Jiva Shakti, c'è la mente, perché questa energia che è la pura coscienza, per interagire col corpo a cui sta dando vita, deve avere una mente, che per forza è dualistica. Perché l'anima è nell'uno, proviene dall'uno, nell'assoluto. Però nel momento in cui tu vuoi interagire con la materia, tu per forza devi avere il dualismo, e questo è nella mente. La mente è tutta duale, per forza, bianco, nero, caldo, freddo, positivo e negativo. Se l'anima non avesse questa struttura con cui poi purtroppo si identifica troppo, non potrebbe interagire. Il problema è che questo strumento poi diventa, secondo la nostra società, troppo mentale, diventa l'unica identità. In realtà dovremmo ricordare che la mente è soltanto uno strumento, però qui Pico ce lo ricorda. Poi dice, ogni movimento è corporeo, ogni movimento, ogni movente è incorporeo. Approfondisce il discorso. Cioè il corpo si muove, ma ciò che muove il corpo non è materiale, non è corporeo. È un'energia che è oltre la materia. E questo oggi la fisica lo dice. Ricordiamo che anche la fisica, tra l'altro io amo molto questi accostamenti, che forse oggi anche Pico avrebbe fatto, la fisica delle stringhe ci dice che l'universo è a undici dimensioni. Uno può dire, ma non sono dieci? No? Pitagorici, i rabbini cabalistici dicono dieci. Perché undici? Perché la fisica delle stringhe dice, sì, dieci più uno. Perché l'undicesima è quella che trascende tutto, è l'ensof. È oltre le dieci della manifestazione materiale. Cioè praticamente c'è qualcosa che è oltre l'uno stesso. C'è la trascendenza assoluta. E quindi sono undici dimensioni. Quindi anche la fisica sta arrivando a queste conclusioni. In realtà c'è già arrivata da un pezzo. Poi, qui Pico dice una cosa fondamentale. Dio, l'assoluto, chiamatelo i nomi che vi piacciono di più, Dio avvolge tutto. Questo lo dice anche Krishna della Gita. C'è un verso bellissimo nella Bhagavad Gita dove Krishna dice, tutto l'universo è dentro di me. Però nello stesso tempo io lo trascendo. Stessa cosa. Che qui cosa vuol dire? Tutto quello che esiste è una manifestazione dimensionale. Quindi è tutto dentro l'assoluto. Però nello stesso tempo l'assoluto trascende. E qui Pico lo spiega in maniera meravigliosa. Dice, Dio avvolge tutto. Ed è attraverso tutto. La mente attorno all'anima. L'anima attorno all'aria. L'aria attorno alla materia. Qui l'aria si intende il prana. Quello che nello yoga si chiama prana. L'energia vitale. Non è solo l'ossigeno, gli elementi chimici. Qui si parla sempre di energia. E quindi anche qui quello che dice Pico noi lo ritroviamo assolutamente anche nelle Upanishad. Però è l'assoluto che avvolge tutto. Poi ci sono altri strati, ovviamente. Però tutto è avvolto e tutto è dentro, dentro Dio. Poi Pico scrive, niente nel mondo è privo di vita. Altra cosa fondamentale. Cioè perché nulla è privo di vita? Perché in realtà la coscienza è anche negli atomi. E qui ci aiutano molto le Upanishad con la figura del Paramatma. Paramatma. L'atma è appunto l'anima. Param. Quindi l'anima suprema che si trova, secondo i Purana, dentro ogni atomo. Quindi noi diciamo il sasso è inanimato. Ma perché noi non vediamo a livello subatomico? Perché il Paramatma è dentro ogni atomo. Qui Pico lo dice. Capite? La conoscenza spirituale è la stessa? Poi ogni tradizione lo ha espresso in modalità bellissime, con delle immagini, con dei simboli diversi, che troviamo anche nei Vangeli, che troviamo anche appunto nei Salmi antichi. Poi dice. Niente nell'universo è passibile di morte o corruzione. La vita è ovunque. La provvidenza è ovunque. L'immortalità è ovunque. Quindi di che cosa dobbiamo avere paura? La paura nasce dall'ignoranza. Ecco perché tutte queste conoscenze non sono veramente arrivate, non volevano farle arrivare alle persone. Perché se tu fai arrivare questo, non ci saremmo ritrovati adesso, nella situazione in cui ci troviamo. Perché le persone sono crollate, crollano sempre. Tutti i totalitarismi arrivano perché c'è una massa di milioni di persone che sono dell'ignoranza. Sono l'ignoranza e quindi hanno paura. Perché se tu sai di essere immortale, che nulla muore, che tutta energia eterna, tutto, e che in ogni attimo c'è il divino e che noi stessi siamo divini, di cosa devi avere paura? E quindi tu non cedi libertà. Perché lo fai solo se hai paura. Capite quanto è potente questa conoscenza e quanto è importante diffonderla? E quelli che stanno cedendo non hanno questa conoscenza. Qui non è questione di essere più bravi o più forti. Qui è solo una questione che alcuni hanno la conoscenza e ad altri non è stata data. Questo è il punto. Mi avvio alla conclusione. Dio propone il futuro agli uomini tramite sei vie. Per chi vuole sapere il futuro ci sono dei segni. Questo è molto interessante. E c'è in tutte le tradizioni. Se tu sai vedere certi segni puoi capire quello che sta per succedere. Le sei vie per predire il futuro. Picco ce le dice. I sogni. Molti a volte fanno dei sogni premonitori. Quindi i sogni è una modalità dove tu puoi sbirciare nel futuro. Gli eventi portentosi. Gli uccelli. Molti grandi iniziati capivano dal movimento degli stormi cosa stava per succedere. L'interiora. Questo lo facevano più i greci e i romani quando guardavano nell'interiora gli animali sacrificati. L'ispirazione. Qui quando il veggente ha l'ispirazione. Oggi li chiamano medium o gente che canalizza. E' questo. L'ispirazione. E la sibilla. Le sibille quelle che stavano negli oracoli. Queste sacerdotesse che anche lì andavano in uno stato alterato di coscienza dove riuscivano a vedere oltre. A vedere oltre. il vero dice Pico. Giovanni Pico della Mirandola. Il vero è ciò che non è perturbato. Non è limitato. Non è colorato. Non è figurato. Non è irrequieto. E' nudo. Per spicco. Comprensibile per se stesso. Bene. Immutabile. Del tutto. Incorporio. Qui sta parlando della verità. Satyam. Satyam trascende qualsiasi qualità materiale. Però ha delle qualità spirituali. Qui sta parlando invece delle qualità materiali che sono trascese. ciascuno ha in sé dieci entità punitrici. Questo è molto interessante. Qui parla di noi. Le singole anime. Noi abbiamo dei nemici. In Sanskrit si chiamano Anarta. Con cui noi dobbiamo vincere la battaglia. Qui sì. Dobbiamo combattere. Dentro di noi. Innanzitutto. L'ignoranza. L'accidia. L'incostanza. La cupidigia. L'ingiustizia. La lussuria. L'invidia. La frode. L'ira. E la malizia. E questi sono gli Anarta. Cioè anche qui. Pico li chiamano in un altro modo. Nello yoga si chiamano Anarta. E lo stesso elenco. Se voi leggete le Upanishad fa lo stesso elenco. Perché? Perché sono non dei vizi. Sono delle cattive abitudini legate al Tamas. Uno dei Triguna. che nel mondo materiale uno può accumulare. Perché? Perché c'è. È una vibrazione. Noi dobbiamo vibrare ad un altro livello. Ecco il lavoro che dobbiamo fare. Quindi quello che voglio dire in conclusione. Invitandovi ovviamente alla lettura dei testi di Pico della Mirandola. Come vi invitate alla lettura di Giordano Bruno. Poi nel webinar che dedicherò al Rinascimento. Al Nuovo Rinascimento. che dobbiamo fare noi. Con queste conoscenze. E con altre conoscenze. Quindi fare una nuova grande sintesi tra Oriente e Occidente. E poi mettere in pratica queste cose. Con i mantra. Anche con altre cose che poi vi dirò. Dei rituali importanti. Perché questi iniziati non erano solo teoria. Cioè Giovanni Pico della Mirandola metteva in pratica queste cose. Non era solo uno che scriveva i libri. Come fanno i filosofi di oggi. Che scrivono e basta. Poi però sono terrorizzati. Perché in realtà non hanno veramente realizzato questa conoscenza. Non hanno veramente realizzato il Paramatma. O l'Atma. Che loro stessi che noi siamo. Jiva Atma. Che è l'anima piccola. Jiva Atma. Invece Paramatma è l'anima suprema. Quindi in conclusione. Voglio proprio dare questa nota di positività. Vi invito a condividere questi tesori. Cioè noi abbiamo avuto in Italia queste persone. Che hanno combattuto. Cioè questo è andato dal Papa. Gli ha detto delle cose. Ecco, lui lo voleva uccidere. Infatti è dovuto scappare velocemente da Roma. Bruno lo ha ucciso. Hanno ucciso il corpo. Leonardo anche lui è andato in Francia. Ecco. Portiamo avanti l'eredità di Leonardo, di Giordano Bruno, di Giovanni Pico della Mirandola. Poi ne vedremo altri. Vedremo Leo Battista Alberti, Marsilio Ficino, Erasmo da Rotterdam. Tutti iniziati. Tutti grandi italiani. E noi siamo i loro ereti. Abbiamo una responsabilità. Quindi vi ringrazio e vi invito ad aiutarmi. Ad aiutare. Grazie. Un abbraccio a tutti gli abbonati e iscritti che sostengono il nostro lavoro. Troverete tutti i contenuti extra nella playlist riservata agli abbonati. Grazie di aver creato insieme a noi questa grande realtà.